Avere un'organizzazione, avere un progetto quotidiano di allenamento, di reintegro, di alimentazione, penso che sia fondamentale. Tutti quanti cercano di seguire questa alimentazione perché è importante, perché comunque ormai comprende tantissimo la vita del calciatore, perché ci sono persone che hanno studiato molto su questo e poi comunque gli effetti si vedono, soprattutto in questi giorni di ritiro che con questa alimentazione qua si riesce a recuperare prima e si riesce ad avere anche molta più forza nei muscoli. Il lavoro quotidiano, c'è la sveglia con colazioni che comunque sono prestabilite, poi c'è l'allenamento, c'è l'integro, il pasto, il riposo quotidiano, poi con l'allenamento, eventualmente con l'allenamento se ho bisogno di far vedere qualcosa anche a livello di video, a livello didattico, c'è anche una seduta di una mezz'oretta di video, poi si cena e si va a dormire. C'è una dieta specifica, un'alimentazione, un'idratazione che ti consente di superare il lavoro nel migliore dei modi. C'è un'alimentazione che ti consente di superare il lavoro nel migliore dei modi.